Diciamo che è stata una partita abbastanza dura, ci hanno messo l'Irlanda, ci hanno messo sotto persone soprattutto con le terze linee, non siamo riusciti a respingerli come ci eravamo promessi. Io da parte mia non mi perdono certi atteggiamenti sul placcaggio che non è proprio da me, ma diciamo che sono un ragazzo che solitamente ha sacco i piedi per terra, ma questo è un ulteriore bagno di umiltà, spero e credo che mi serva per crescere come giocatore sia dentro che fuori dal campo, ma la mentalità è già alla prossima partita qualunque essa sia. Diciamo che la prima parte del primo tempo abbiamo dimostrato sempre la nostra aggressività, dobbiamo cercare di continuare a tirarla fuori anche durante le fasi di fatica che è la parte più difficile, soprattutto rientro in campo dopo l'intervallo, quei 10-15 minuti e gli ultimi 20. Tutta la partita, la partita di rugby dura 80 minuti e purtroppo non possiamo difendere solo per 20, 30, 40. Diciamo che purtroppo l'obiettivo sarà lo stesso che era per il Galles e che è stato oggi per l'Irlanda, quindi siamo concentrati su noi stessi, sull'essere competitivi per 80 minuti. Riuscire a cavalcare i momenti della partita, sia quelli che ci favoriscono, i momenti buoni, qui siamo in attacco e siamo per segnare punti, sia quelli che hanno il possesso degli avversari e ci mettono sotto pressione. Quindi non c'è mai stata pressione da parte dello staff sul risultato, questo lo sappiamo, questo non vuol dire che non scendiamo in campo per vincere, però sappiamo che la nostra sfida è incentrata su di noi. A questo livello quello che fa la differenza sono i dettagli, per cui noi dobbiamo essere molto più esigenti con noi stessi, non tanto gli 80 minuti in campo, ma ogni settimana dell'allenamento, ogni momento dell'allenamento, non possiamo mai permettere di abbassare l'attenzione o di pensare ad altro, perché se non siamo concentrati al 100% in ogni secondo in cui facciamo, le cose non vanno per il verso giusto. Diciamo che non siamo fortunati sotto questo punto di vista, quindi non possiamo mai perdere l'attenzione e dobbiamo semplicemente eseguire il gesto tecnico meglio, senza mai distrarsi.